Ben trovati ragazzi, benvenuti a tutti voi per questo nuovo video, anche per me abbastanza atteso. Vi dico la verità, partiamo subito con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata, ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere, trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde, tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito, ve lo dico qui punto com, all'interno del quale come potete vedere una volta entrati nel sito, cliccate sul Bar del Calcio, cliccate di nuovo sul Bar del Calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Come sempre vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni amici miei riguardanti il Bar del Calcio, mi raccomando iscrivetevi, attivate le notifiche, condividete i nostri contenuti perché in questo modo ci aiutate a crescere ancora di più, mettete un bel mi piace, commentate perché vedete l'interazione, se anche magari non risponda ai tanti vostri commenti vi metto un mi piace, un cuoricino, insomma ci sono, stiamo insieme, sapete quant'io ci tenga alla cura della nostra community. Quindi mi raccomando, memorizzate il nostro numero di telefono perché quando volete, magari prendendo spunto da uno dei miei quattro video giornalieri, potete dire la vostra e magari potete anche mandare un audio di riflessione che poi io nella live che farò andrò a commentare insieme a voi. Detto ciò ragazzi miei, questo è un video un po' atteso, soprattutto per il sottoscritto, perché oggi andiamo a fare i cosiddetti conti della serba alla Lazio, alle casse della Lazio, perché ultimamente sto sentendo in giro informazioni sbagliate e vado subito al dunque, dal mio punto di vista sbagliate, questo sia chiaro, vado subito al dunque amici miei, perché nel momento in cui io sento in giro o leggo che la Lazio ha già investito oltre 30 milioni di euro per i vari acquisti, io non ci sto, perché non vale dal mio punto di vista il discorso secondo il quale hai preso Noslin a 15, 17, quello che sarà? O glieli dai adesso, o glieli dai e star tranno sempre quello che costa? No, 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 no. Perché un conto sono i 17 che vanno ad impattare con il bilancio della Lazio di oggi. Un conto sono i 17 che vanno ad impattare nel bilancio della Lazio di domani, che non possiamo sapere quanto la Lazio potrà incassare tra sponsorizzazioni, qualificazioni alle coppe, cammina in Europa League e quant'altro. Ma che cazzarola dei discorsi sono? Io non ci sto. Allora, ragazzi, invece, preferisco fare un altro tipo di ragionamento che, permettetemi, è quello che reputo essere molto più vicino alla realtà dei fatti. La semestrale di giugno, quella finita pochi giorni fa, che sarà resa pubblica, se non sbaglio, a dicembre, allora, gennaio, non ricordo, chiuderà con un attivo che oscilla, adesso cominciate a prendere foglio, penna e calcolatrice, oscillerà con un attivo che andrà tra i 20 e i 30 milioni di euro. Avete capito bene? Perché la Lazio è adesso, da gennaio 24 a giugno 24, quindi entro questa semestrale, che ha preso che cosa? Gli introidi della Champions, qualificazione agli ottavi, il passaggio del turno dei gironi, il bonus degli ottavi e quant'altro. Quindi prenderà altri bei soldini. Proprio questi saranno i soldini che andranno ad impattare in senso positivo con il bilancio della Lazio, che chiuderà in attivo, lo vedremo a dicembre e gennaio, perdonatemi, non ricordo esattamente quando, chiuderà con una forbice attiva che andrà tra i 20 e i 30 milioni di euro, milione in più, un milione in meno. Ma io voglio fare i conti, un po' come quando faccio le statistiche, tenendomi il più basso possibile. E allora vado a dire che la Lazio avrà un bilancio di circa 20 milioni di euro. Attenti, perché dai 20 milioni di euro è già scalato il riscatto di Ghendo, sì. Quindi 20 milioni di euro puliti nelle casse della Lazio. Ma non finisce qui, perché la Lazio incasserà anche altri circa 20 milioni di euro provenienti dall'ingresso in Europa League. Quindi ad ora, aggiornando i conti fino adesso, 20 milioni di euro di cassa, più 20 milioni di euro di premio UEFA per l'accesso in Europa League, stiamo a più 40 milioni di euro. A questo dobbiamo aggiungere i 10 milioni di euro con i quali la Lazio ha ceduto Luis Alberto. Attenti, però, perché il 25% della rivendita di Luis Alberto è andata a Liverpool. Quindi l'incasso pulito della Lazio ammonta a 7,5 milioni di euro, che vanno ad aggiornare il nostro saldo attivo nelle casse della Lazio a 47,5 milioni di euro. E adesso però continuiamo nel nostro viaggio, perché non è finita. Quindi abbiamo detto che il bilancio per ora è a 47,5 milioni di euro in attivo, quindi più 47,5. A questo dobbiamo andare a scalare la clausola recissoria che la Lazio ha pagato per Ciaunà dalla Salernitana, che ammonta ad 8 milioni di euro. Quindi il saldo della Lazio si deve aggiornare a 39,5 milioni di euro. È adesso che vado a sottolineare un determinato aspetto, perché non è stata ancora resa ufficiale la situazione dettagliata dell'acquisto di Noslin. Ma Noslin oggi alla Lazio non costa 17 milioni di euro. Oggi Noslin costa alla Lazio 2 milioni di euro. I 15, obbligo di riscatto, si pagano il prossimo anno, vanno a bilancio il prossimo anno. Quindi Noslin alla Lazio costa 2 milioni di euro da andare a scalare ai 39,5 di cui abbiamo parlato prima. Quindi il saldo della Lazio si aggiorna a 37,5 milioni di euro di attivo. E se ci fate caso, andiamo avanti in questo nostro viaggio, anche Delibashiru è stato, sarà acquistato, ora non so se quando pubblico sto video perché è roba poco di ore per l'ufficialità, anche Delibashiru è stato preso con questa formula. 2 milioni di euro adesso di prestito oneroso, più 4 di obbligo di riscatto che la Lazio paga a st'altro anno. Quindi il bilancio aggiornato della Lazio, tolto anche l'acquisto di Delibashiru, è di 35,5 milioni di euro. Attenti all'aspetto maximiano, perché andando a rileggere il bilancio della Lazio legato allo scorso anno, è come se la vendita di maximiano fosse stata già messa a bilancio. Se avete fatto caso, nel video di maximiano che ho pubblicato in precedenza, vi ho detto che portava una plusvalenza piccola di qualche centinaio di migliaia di euro. Ed è quella la cifra. Quindi maximiano è stato già messo nel bilancio al 30 giugno. Non dobbiamo quindi andare ad aggiornare il bilancio. Poche centinaia di migliaia di euro vanno in questo nostro conto grossolano che stiamo facendo ad intaccare poco la cassa della Lazio, che quindi rimane aggiornata, nonostante la cessione di maximiano, a 35,5 milioni di euro. Ma c'è però la cessione di Marcos Antonia. 4 milioni di euro. Sommati ai 35,5 di cui abbiamo parlato poco fa, il saldo attivo della Lazio ad oggi è di 39 milioni di euro. In poche parole, con Luiz Alberto ti sei ripagato, c'ha un A, ci hai messo solo 500 mila euro sopra, forse quei 500 mila le hai presi da maximiano, centinaio in più, centinaio in meno di migliaia di euro. Quindi hai chiuso paro. E non cadiamo nel tranello della cifra compressiva con la quale andremo a pagare Noslin o Delibasciro. Perché il fatto del giochetto del prestito oneroso con obbligo di riscatto startranno permette alla Lazio di dilazionare la spesa, ma soprattutto di metterla su bilanci separati. I soldi nelle casse della Lazio ci stanno, e attenti, perché non ho contato un'altra cosa, che andrà ad aiutare, ad abbassare ciò che la Lazio andrà a pagare nel prossimo semestre. 15 Noslin e 4 Delibasciro, ad esempio. So è l'abbattimento gigantesco che la Lazio ha dato al Monte Stipendi. Suo obiettivo primario, la Lazio si era posta l'obiettivo in primis di abbattere il Monte Engaggi e poi di rinforzare la squadra. Da qui ridimensionamento. La Lazio ha quasi 40 milioni di euro nelle tasche. Se la Lazio vuole, bussa nelle casse del Manchester United e si va a prendere Greenwood. Io temo che la Lazio si stia facendo sfuggire Greenwood per avere sempre quella sua voglia di stravincere nelle trattative. La Lazio, se paga 34 milioni di euro Greenwood, ha già stravinto per quello che è riuscito a fare. Oppure, noi tifosi della Lazio, visto quello che la Lazio ha nelle casse, dobbiamo pretendere, se non viene Greenwood, l'acquisto di almeno due giocatori da almeno 15-20 milioni di euro l'uno. Se la Lazio, tolti Ciaunato, tolti Noslin, Delibasciro e anche il ragazzino preso a zero spagnolo, attenti a sto ragazzino, perché è quello che ad Auronzo Cagatore mi incuriosisce più di tutti, vi dico la verità. Parlo di Mugnoz, Cristobal Mugnoz. Attenti, perché la Lazio ha il colpo per prendere due buoni giocatori. Se la Lazio prende due buoni giocatori, e quando dico due buoni giocatori, porto un esempio per farvi capire, due alla Samarzic, attenti, perché qui potremmo anche non parlare più di un ridimensionamento, senza togliere il discorso, che continua la Lazio a rifiutare un'offerta molto vicina ai 20 milioni di euro da parte appunto della Spagna per quanto riguarda Castellanos. Dalla Spagna per Castellanos, che io avrei venduto immediatamente, questo sia chiaro. Quindi la Lazio, i soldi ce li ha. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi mando un abbraccio fortissimo ragazzi, mettete un bel mi piace e condividete. E come sempre, forza Lazio!